ciao a tutti benvenuti su magis of lotus per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo che potete iscrivervi al canale lasciare un like commentare se va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto abbonandovi sia su youtube che su twitch su youtube a partire da 0 99 al mese su twitch invece se avete amazon prime video potete farlo gratuitamente ricordatevi di rinnovarlo vi ricordo anche il nostro canale telegram ask magis of lotus entrateci perché è veramente un canale super super positivo e tra l'altro ci saranno anche delle sorprese in futuro quindi vi conviene anche non vi dico niente perché sono delle sorprese salutiamo isma tarmogoffi in arte tarmogoffi in arte ma puoi raccontare l'aneddoto storm of office allora raga praticamente hanno decidere il nome del canale quindi tutto questa storia quale prestazioni poteva essere anziché magis of lotus i tarmogoffi quindi riempite di commenti di insulti per isma capro era bello però un nome di qualità sì 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 ci poteva stare sono io che sono troppo troppo triste e serioso allora vi ricordo anche il nostro nuovo gruppo facebook magis of lotus la donanza dell'idea l'ho trovato su facebook venite perché possiamo i miei video parliamo di argomenti guardate qua c'è isma ti sei sbianchito e si è spavento di aver giocato non aver giocato le titan blade isma un grande padre titan blade no perché come al solito ragazzi il weekend non riesco a giocare quindi quindi la prima slot a qualcun altro sì poi è difficile prendersi tante ore perché comunque quando fai tornei domenicali sono tante ore c'è non è un torneo classico di tre quattro turni no infatti infatti perché se poi va bene non è che dici troppo me ne vada no appunto soprattutto in team non puoi dire no è quello c'è da solo potete dire vabbè splitter non lo so vi ricordiamo che il nostro sponsor fantasiastore.it uno dei store online più fondi d'italia se cercate carte del nuovo star wars unlimited potete comprarle lì se cercate l'orcana magic you go pokémon d'aggios and dragons quello che volete lo trovate lì anche one piece codice sconto lotus 5 per avere 5 per cento di sconto sui prodotti non scontati quindi vi ricordiamo che il nostro sponsor allora oggi cosa parliamo facciamo un recap del torneo team trio che abbiamo giocato quello appunto della foto questo weekend a torino al magic l'air e e poi parliamo di invece il la tier list di pauper che è molto interessante perché siamo quasi al popper gordon e quindi verrà un video lungo differenza degli altri che siamo abituati a fare sai dieci minuti magari massimo venti questo può venire un pochino più lunghetto ragazzi perché abbiamo accorpato più cose se non solo un solo formato ecco che volevamo in un solo video darvi tutti gli argomenti pauper e unirli cercheremo comunque di fare veloce una mezz'oretta dai massimo allora partiamo subito questo è uno dei tre deck che abbiamo giocato alla vi faccio solo vi dico solo due cose prima di iniziare allora ritornerà team trio ed era unificato cosa vuol dire unificato vuol dire che se il giocatore a gioca anche solo una brainstorm nessuno degli altri giocatori può giocare brainstorm l'altra modalità di team trio che esiste e ne esistono altre due esiste quella puoi giocare quello che vuoi quindi a 4 4 4 che però ha poco senso e l'altra invece è che il totale delle copie di una stessa carta nei tre deck deve essere quattro che invece ancora un po più forse strategica no perché puoi splittare le carte esatto e quindi è questo qui non vedrete una carta ripetuta nei tre deck alla il primo giocatore paul il nostro amico paul ha giocato più chiaro se il sostituto di ha giocato ubifate e niente alla ragionamento qual è stato all'inizio eravamo incentrati su bg quindi portare una shell bg mono red uv affinity poi visto che non abbiamo così tanta esperienza nel formato e bg porta le partite veramente per le lunghe paul si è sentito più a suo agio giocare ubifate che è un deck sempre comunque con tante scelte però magari che può chiudere più velocemente sicuramente di bg che è veramente un tempo vuole vuole finire la partita vuole vuole strapparla non vuole sicuramente arrivare a un punto in cui finiamo il mazzo ecco allora tre brainstorm tre feri sir tre preorden un agoni work quattro augure polas una delle carte più forti a giocare nella scelubi devo dire veramente impressionante molto molto forte sì perché blocca fa vantaggio non sempre perché può anche failare però quella riprendi con ninja è veramente fortissimo tre casta 14 counter spell un eco in the key che come dicevamo con isma nel pre video ci sta alla grande in questo formato davvero tantissimo questa carta una volta non era così forte veramente ci può stare spell starter sprite 4 per carta una delle carte più forti del mazzo un suffocati fumes un arms of adar un murmuring mystic due tre ninja of the deep powers 3 snuff out e due tor of the black rose poi abbiamo quattro lori rebuild un gourmand angler e poi vabbè la scelte le terre abbastanza classica con una feccia uno di miracolo edotto quattro puoi gioca e poi le altre che sono tre base e contaminated acqui fire la side abbiamo un'altra mass removal una blu elemental brass un cener edict due dispel scusate due cener edict due dispel quattro idroblast un murmuring mystic treni il spellbomb e uno kiba gang piccolo recap di comandato se non sbaglio ha fatto 5 1 o 4 1 e una non l'ha finita una cosa del genere e quindi il deck si è dimostrato forte niente cosa dire è un deck forte ma è molto è abbastanza divertente da giocare e secondo me se impara a giocarlo bene con le sedate giuste 6d ne sei da utiuste paga 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 molto paga molto simone invece componente del canale ha giocato monored perché monored per il discorso di prima non avevamo troppa esperienza nel formato monored è un mazzo che comunque più lineare di altri e va a coprire un colore soprattutto di non ti toglie carta dal tridecca è molto specifico no c'è alla fine usi un colore tutto lì e poi per gli altri due decchi puoi fare quello che vuoi allora la lista che abbiamo giocato la main ci è piaciuta adesso spiegheremo qualche scelta perché questa rispetto a ob è un po più spicy invece passato le serate segrete di testing a far robe è un sei ore di brainstorming l'abbiamo fatto solo per le decchi e poi scriverò un articolo che posterò sul gruppo in quale modelli tutte le rettecciate però è stata una roba lunga ma tra l'altro ricordiamo questa cosa inizieremo a fare qualche articolo ogni tanto ma anche se voi volete collaborare con noi scrivendo degli articoli da postare nelle nostre pagine potete farlo l'unica cosa che ci dovete scrivere in privato mandarci l'articolo prima e poi in base a se riusci a se secondo noi va bene o no ci possiamo anche sbagliare non dovete offendervi di base c'è questo lo postiamo oppure no e se se qualcuno vuole farlo noi siamo aperti a dare lo spazio per per fare questo tipo di code e ovviamente siamo molto contenti perché ci date una mano oggettivamente del formato che volete in realtà potete trattare l'argomento che volete che riguarda magic e ripeto poi dobbiamo semplicemente uno di noi lo legge e dice se va bene o no allora 4 c'è lightning non tutti li giocano però essendo il mazzo aggressivo e comunque che vuole anche liberare il board c'è lightning ci sta alla fine un fulmini in più è un fulmini in più esatto e l'abbiamo sedato fuori in alcuni match up soprattutto tipo rv synthesizer dove l'altro al rosso e può stare open perché il pericolo è quello che lui te lo copi e ti porti via anche un pezzo tuo è oggettivamente se succede brutto quindi in alcuni match up l'abbiamo tolti experimental synthesizer goblin blast runner goblin bushwalker 4x una granata goblin e allora per come ho visto io i game forse si potrebbe anche giocare il secondo anche se può capitare che non avete il goblin ne avete 12 in totale perché avete quattro bushwalk anzi scusatemi 16 no dai non si capitano più il dota cazzarola edici dai porca troia comunque 16 di cui uno di questi 16 in realtà te ne fa tre sì infatti ma goblin grenade guarda probabilmente si può giocare anche più gridi c'è due tre non lo so perché può essere legnoso però due ci può anche stare i cinque danni sono proprio tanti e anche un quarto di vita goblin tomb rider 4 implemento con basso 4 pull dota 4 lighting bolt e qua c'è una c'è una carta spice la pirith spell bomb allora il ragionamento se vuoi parlare tu parla e se no vado io vado vado allora normalmente questo slot se uno abbastanza vezzo nel pauper viene occupato dalla carta di fianco seal of fire perché si gioca seal of fire la gente dice ma no shock fa schifo perché giochiamo shock perché questo è un mazzo sintetizer comunque quindi se tu giri un bolt un fulmine insomma la sfiga che devi tirarlo subito non ti permette di metterlo da parte quindi tu magari non sei non vuoi tirarlo in testa non sei un punto della partita che sei al cento per cento vuoi andare faccia magari vorresti tenerlo da parte per le creature per fare altre cose ecco tenertelo insomma tenertelo lì e quindi se lo fare te lo permette allora dice ma perché dite ma perché non giocate se lo fare anziché pirith spell bomb perché contro questo mazzo si sai da spesso l'accolito rosso che è una carta protetta dal rosso qui tu non hai modo di togliere quella carta e quindi cosa possiamo fare usare una fonte non rossa per fare danni la pellet spell bomb non è una fonte rossa è un artefatto e quindi può togliere l'accolito che ti cambia enormemente i match up sì e altre due cose goblin bass runner sacrificiamo un permanente prende più di più usare minacciare si lo fa e pirite si sacrificano pirite è un artefatto non incantesimo quindi quindi per cul dota aumentiamo il numero di artefatti quindi questo è un altro lato stra positivo e niente e si e si cicla altra cosa importante se in alcuni momenti non ci serve l'artefatto non ci servono i due danni ma vogliamo pescare magari un bushwalker una goblin granata quindi qualcosa di più consistente perché oggettivamente probabilmente siamo messi male no la pirite si cicla in più possai il fatto che si cicli ovviamente ci aiuta a trovare le carte che abbiamo quindi tutte queste cose ci fanno pensare ovviamente il lato negativo e che costa uno in più di silo fire questo è la negativo ovviamente però noi abbiamo calcolato che secondo il nostro i nostri ragionamenti i lati negativi sono minori dei lati positivi quindi ci siamo segnati mettere la pirite spell bomb esatto perché tutti questi lati fanno sì che sia molto molto forte cioè l'accolito lo aspettavamo davvero tanto perché molti hanno portato affinity affinity li mette proprio a josa l'accolito rosso se lo risolvono cosa fai questo la mucchiare o provare ad autorizzarlo non si sa come invece tu hai la pirite in mano la trovi e l'altro ha proprio tante sinergie c'è ripeto anche il numero di artefatti se voi lo guardate non sono così tanti e voi avete quattro experiment asintatizer di base quattro experiment asintatizer quattro implement e quattro voldaren e le quattro great furnace quindi ne avete 16 questa è la base delle liste monored cioè non ne hanno di più sono 16 e 16 su 60 e uno ogni quattro carte se avete un callo di statistica o dovete per caso spaccare qualcos'altro per oppure tipo avete due terre non volete spaccarvi la great furnace per dire esatto e cazzo avere due artefatti in più può spostare due non sono pochi su 60 poi questa lista avevamo pensato non l'abbiamo messa per motivi vari ma se giocate la galvanica maggior ragione si si che alcune liste giocano a noi non ha fatto impazzire perché entrare in metalcraft è davvero dura contando che cool dota comunque ti spacca un artefatto quindi non lo so ma calcolando è veramente difficile entrare in meta però se giocate le pirite per esempio potete montare una lista con tre pirite e una due scariche per dire cioè che può anche avere un senso poi abbiamo vabbè quanto vuol dare un reckless e un brand perché questi qua testando il deck un po ci siamo accorti che comunque sia di main che possiede ti servono delle carte extra e quindi alla fine abbiamo optato per il due per del degli esilini in effetti possiede ti migliora un po perché vuoi vedere le carte che sai di anche se c'è una sfiga le piroblast per esempio non sono carte che vuoi girare tendenzialmente a meno che a meno che sono permanente è quella dura oppure se fai la big place comunque hai un turno tipo fai bushwalker coperto da piroblast allora lì ci sta però per esempio abbiamo beccato simone ha beccato un dredge al penultimo turno e la relic ti cambia completamente il match up quindi la vuoi pescare e avendo questi peschini in più è un po più semplice allora la side abbiamo tre le trickery 2 ferri in plain 4 piroblast 3 relic 2 smash to dust e una smash to smithers dico subito e ci siamo accorti che abbiamo sbagliato gli smith smithers vanno giocati in tre o quattro copie perché perché c'è capitato contro tutti i mazzicani tra ben gli artefatti eccetera il embass che fai fatica altrimenti ad ucciderli loro riescono comunque guadagnare troppo fare disruption e fai fatica cosme smithers per esempio sulle embass ovviamente l'embas uno mi potrà dire ma lui lo può saccare risposta è ovvio ma tu lo fai quando lui non ha due ma tra l'altro per esempio bg sacca spesso nella tua end qualcosa per per pescare quindi quando lui sacca per pescare che non ha più due mana open smash to smithere instant puoi spaccare l'emba per dire open entrato comunque i tre danni di smash to smithers spostano troppo non puoi andare troppo mid range post side e quindi bisogna metterne di più yes allora invece questa è la lista che ho giocato io e questa è molto questa è molto diverso da quella che si gioca e adesso vi spieghiamo un po tutti i ragionamenti allora i quattro mitotteri ho parlato anche con aizen il punto di riferimento per pauper italiano e proviamo sì io ho fatto vedere la lista abbiamo parlato a fine torneo e me l'ha valutata tutta e la valutazione è stata anche positiva gli sono piaciuti cambi che ho fatto addirittura lui mi ha detto che aveva pensato una lista senza gli ornitotteri di affinity quindi proprio come se fosse tra virgolette rv synthesizer credo quindi comunque una lista più mid range no quindi senza troppi sono pezzi belli sono pezzi belli che ci può stare non è stupida come idea e io non non me la sono sentita perché comunque adesso poi andremo a vedere per esempio il tamburo senza l'ornitottero è forte ma non così forte ma non così forte e anche metà di krebiuk per esempio se togli gli ornitotteri e il firexian walker è forte ma non così diventa sempre più scarso perché se tu metti tutti dei drop che devi pagare mana fai fatica poi ad avere gli artefatti il mana open allora 4 ornitotteri un firexian walker perché il firexian walker ultima carta commesso nel deck sabato sera prima del torneo perché il deck così come montato ha bisogno di uno stabilizzante di main per fare affinità e utilizzare il tamburo al meglio visto che il value secondo me il deck ce l'ha già di base gioca una marea di carte che si ciclano che pescano quindi va benissimo mi sono sentito di mettere firexia walker per avere un artefatto in più a zero per metalli crebiuc spring leaf drum eccetera oppressore e gear seeker quindi per le varie e la scelta sì e devo dire che mi è piaciuta per il firexian qualcuno mi potrà dire è ma spesso lo sai di fuori sì ma in realtà main deck ti stabilizza molto poi se becchi tipo mazzi come cool dot eccetera lo puoi tenere tranquillamente blocca benissimo infatti blacksmith skills carta del mazzo ti senti già più protetto vero isma mamma mia senza questa carta non uscire di casa questo mazzo ti senti proprio alla bolla di protezione no raga giocare all that glitter senza questa vivi mi sentirei nudo l'ho provato e mi sono sentito nudo allora carta secondo me op e carta di cui siamo convinti al 110 per cento cioè non abbiamo dubbi su questa carta un mano a bianco instante un permanente prende ex prof indistruttibile se è una creatura artefatto prende più due più due in un permanente 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 ma isma attacca attacca raga vi proteggete una terra dal dal dust to dust pure vi proteggete l'hold that glitter se viene targettato direttamente perché è un permanente un incantesimo cioè ragazzi non ha sfighe umana qua in sto mazzo lo fate ovviamente super facile perché è come tenersi open di metal rebuke in pratica la stessa cosa quasi la stessa anzi è ancora più facile perché basta che ne so un tottero un tamburo stappati e voi proteggete quello che diavolo vi pare cioè non non c'è in più il più due più due il più due più due è anche un combat trick è anche un combat trick non ha sfighe pazzesco pazzesco veramente l'ho giocato in due tornei perché ho fatto il venerdì prima del team trio e nel team trio ha veramente cambiato le partite come diceva isma cioè mi è capitato che mi facessero il down bringer l'1-3 che esiglia l'incantesimo l'1-3 che esiglia l'incantesimo lo proteggo all dead glitters e tu magari con quell'1-3 pensavi di aver stabilizzato il board e invece no tra l'altro come diceva isma ti basta solo umana e con la lista con 8 traben con 8 inspector tu sei più portato a stare open perché o giochi rebuke o giochi blacksmith oppure sacchi il gru quindi è una lista che è già più portata ad aspettare magari un turno in più a non overbordare troppo è molto bello questa cosa poi vi farò vedere anche la site e troverete delle altre cose belle novice inspector e traben bombe bombe assolute meno di 8 non si possono giocare se potessi fare così add one di giocare in 10 probabilmente 12 non lo so ma in 10 ci arrivo sicuro aspettiamo la prossima ristampa funzionale speriamo che mettano un altro nome ancora metteranno vabbè novice traben inspector metteranno non lo so expert inspector oppure old inspector old inspector of inspector of no inistra si è già fatto iravnica inspector of ah inistra e c'è già inistra c'è già è bene vabbè una of kamigawa of mirodin che trova il clu che è un artefatto un inspector sei di mirodin però è creatura artefatto meglio no disastro disastro no creatura artefatto devono bannare altre due carte per i diofili allora poi spring leaf drum vabbè carta fondamentale del deck poi vi farò vedere anche la bana base cioè il drum è troppo importante poi abbiamo quattro del glitters carta del deck ecco mi sono concentrato su questa carta quando ho montato il deck come tutti adesso dirò delle cose che alcuni potrebbero sembrare ovvie il mazzo vince facendo olden glitters però questa è una cosa ovvia che però tante liste secondo me non hanno assimilato perché se tu vinci facendo olden glitters e proteggendolo devi farlo protetto non puoi pretendere che contro il rebuk tu sia protetto perché non è così non è così fai molta fatica quindi il vostro focus secondo me giocando questo mazzo è devo fare olden glitters coperto è quello il modo per vincere negli altri modi faccio molta più fatica a vincere poi abbiamo quattro boon che vabbè con la shell degli spectre sono pazzeschi poi vai in sinergia anche con l'ornitottero con il firex è veramente una bella carta fortissima tra l'altro un incantesimo quindi ricordatevi che vi pompa con olden glitters 4 volt skirge ecco un'altra carta second patch allora volt skirge perché perché con olden glitters vinci contro mono red di base e nel mirror non essendoci particolari interazioni se tu riesci a fare volt skirge con olden glitters rischi di non perdere praticamente più se voi ci avete fatto caso non ho citato i gingerbrut perché a me non piacciono non li ho messi ho preferito il volt skirge che è costo uguale perché devi addizionare due vite ovviamente però lifelink perché non mi piace il gingerbrut perché è un mana sink si dice quindi una creatura che ti costa mana costantemente per fare poco cioè se voi non avete old glitters sopra il gingerbrut che è ovviamente la miglior miglior spot voi pagate un mana per fare un danno si cioè che schifo e forte in un meta magari midrange che devi passare bassa ma in un meta in cui è molto aggressivo il volt skirge è sempre meglio si e poi tu avendo gli otto traben che oggettivamente ormai ho visto anche su mtgo ci sono arrivati tutti che è giusto giocarli tu il mana lo vuoi sfruttare per pescare cioè non te ne frega di fare un danno si è ovvio se l'altro è a 3 è bellissimo fare gli 1-1 rapidi ma l'obiettivo è fare grossi chunk di danni non piccoli dannetti l'obiettivo è fare old glitters come abbiamo detto ball skirge carta approvata altra sinergia tra virgolette sinergia esce da snuff out questa è una cosa che dovete calcolare perché contro i mazzi che giocano 4 snuff out se voi gli mettete sopra old glitters rischiate che lui non abbia la removal o che ne abbia solo una quindi il mazzo è più tecnico di quel che sembra secondo me io giocandolo me ne sono accorto che una scelta sbagliata può farti perdere e devi valutare tanto devi conoscere anche gli altri deck bypass anche spinning darkness è vero è vero che si gioca si gioca in bg poi metallic rebuke 4x scelta che non ho dubbi c'è metallic rebuke è il discorso che abbiamo fatto prima dobbiamo proteggere il pezzo abbiamo 6 proteggini main deck dobbiamo proteggere stolen glitters poi sempre di più si giocano le master mobile di main e quindi avere i 4 metallic rebuke ti sposta la partita perché se ti fanno un 2-2-2 in end rischi di perdere oggettivamente e metallic rebuke è perfetto counter dust to dust e tutto il resto 4 totcast qua non mi soffermo e voi avrete notato che manca one off mind on off mind una cosa del genere quello che pesca 2 se controlli umano e non umano non lo paghi uno allora perché non li gioco le liste classiche ne giocano 3 e non avete idea di quanti ne ho visti in questo weekend tappare trebana per pescare 2 quanti ne ho visti eh di affiniti fare per me è sbagliato è veramente brutto perché di main ci sta che riuscite a pagarlo uno la maggior parte delle volte ma post side l'equity fra non umani e umani cambia e cambiando quest'equity e con la side dell'avversario che sicuramente andrà a togliere più permanenti vostri rischiate veramente di fare tappo 3 pesco 2 che in questo mazzo fa veramente schifo Isma fa schifo fa veramente schifo perché poi tu hai tutti i clou dei traben quindi tu il mana da usare in eccesso ce l'hai già e lo usi là non devi fare tappo 3 pesco 2 per pescare poi tra l'altro diciamocela tutta Affinity non ha una qualità alta mediamente delle carte cioè sono tutte carte è un massimo di sinergie quindi o pesca oltre il glitter sopposchi oppressori o altri peschini oppure peschi sì un trap è una terra un ornithot è una terra cioè quindi One cioè On Offmind per me è cestinata a me non piace l'ho testata e non mi è piaciuta per niente poi ripeto di side è una carta post side è una carta non bella e vi dico un'altra cosa mediamente giocherete 1,5 game post side e un game di main nella vostra vita quindi più side che main meglio che le carte siano forti anche post side infatti e qua troviamo un'altra scelta che secondo me in tanti criticheranno mirenforcer solo due per il panzone più famoso di magic è solo in due per però è corretto sì perché allora tra l'altro non voglio essere blasfemo però ci pensavo proprio oggi io i mirenforcer pagati a zero mana ne ho fatti però sono stati più o meno il 50% di quelli che ho fatto durante il torneo e non è così bello in realtà pagare non pagare zero mana a mirenforcer ok e qualcuno mi dirà sì lo paghi uno chi se ne frega ed è vero se lo paghi uno va bene se lo paghi due è già parecchio più brutto però sto ragionando e non è detto che in futuro proverò una lista anche senza mirenforcer questo perché perché non li fai nei primi turni post side nei primi turni intendo 1,2,3 non lo bari subito lo fai in là che è un 4-4 in realtà è gestibile è gestibile purtroppo secondo me tanti giocatori sono rimasti al pauper di un po' di anni fa dove fare ranello oppressore era fortissimo era veramente una bomba invece nel pauper di adesso la qualità s'alzata e fare mirenforcer di quarto spossa relativamente non è evasivo non fa niente non fa niente perché infatti c'è il gear seeker serpent che tra l'altro è una carta che anche questa la provo al 110% perché mi sono trovato benissimo e per me è una bomba perché alla fine lo pago sempre 2 perché 5 artefatti li hai sempre al contrario di 7 5 li puoi fare anche di terzo senza problemi io l'ho cassato di terzo e è stato fortissimo e un 5-6 e cazzo se è grosso 5-6 5-6 blocca i tonalari a terror grazie lo ammazza solo il serpentone quello che costa doppio blu di terror che non gioca praticamente nessuno che è 6-5 oppure il 6-3 rapido di ponza e basta tutte le altre combat le vince lui le vince lui cioè di base ovviamente poi ovvio uno mi può dire sì diamo più 2-2 facciamo quello più 1-1 di base con 6 mana è imbloccabile e voi direte minchia 6 mana è una merda e in late no cioè in mid late rischi che tu lo appoggi e contro un mazzo stallato una board stallata per esempio mi fa mi viene in mente rv synthetizer no? che ti mette una marea di bloccanti però il board poi è stallato e quindi tu cosa fai? 5-6 che fai ultimi danni e se gli metti all dead glitters ci sono alcuni deck che tipo ripeto rv synthetizer che probabilmente la removal che hanno è o destroy evil oppure journey into nowhere a sorcery però quindi tu puoi dare più all dead glitters rendere imbloccabile ovviamente serve una marea di mana ma chi ha giocato questo mazzo sa che comunque le varie posse possono andare anche lunghe e con gli spectre peschi veramente infinito quindi gear approvato secondo me è fortissimo passiamo alla mana base poi mi sveltisco perché se no 4-6 in den 4 sito sinodo d'archistita del carta di merda veramente ragazzi una carta di merda in questo deck ho parlato anche con altri che hanno giocato affiniti e tutti erano d'accordo con me almeno la nostra impressione è stata questa giocare 3 d'archistita del veramente ti fa inchiodare tantissime volte la mia scelta non fai la traben non fai la traben ma fa veramente poco il problema è che il mazzo vuole vuole il mana colorato soprattutto la mia lista cioè la mia lista ha anche i blacksmith quindi a 4 io poi mi son detto preferisco giocare 18 terre perché post side vado sempre più lento quindi io preferisco avere una terra in più post side che una terra in meno il mio ragionamento è sempre stato post side cosa è importante perché il main deck i matchup sono quelli gli altri non hanno late specifico quindi io me la gioco e so che parto messo bene contro tanti invece post side arrivano i the glamour i dust to dust i casting to fire tutte queste carte qua e quindi io devo essere preparato se posso già main deck per i post side quindi una sola dark citadel però due terre tappate in più una bianconera una blu nera e perché la bianconera blu nera in realtà semplicemente perché ci danno bianco e blu e il nero e capiterà una volta ogni 30 game che fate un ball skirch senza pagare le due vite ma non vi cambierà niente non è per quello sono indistruttibili una bella partita è stata contro ponza che tiene terra terra in cantesimo terra doppio termocrust e io faccio doppia terra indistruttibile e vincerò quel game perché ovviamente lui ha fatto terra in cantesimo terra passo terra pezzo passo niente quindi niente poi un'isola e due pianure io ho tre basiche e questo è anche dovuto a late contro gli artefatti e avere tre basi che ti può spostare di più ho scelto due bianche perché semplicemente il bianco è tanto presente vedete anche la side la side il terzo blacksmith due crimson tre dust to dust quattro obsidian due spell pierce e tre standardieri vado velocissimo blacksmith confermato i crimson in base al meta meno forti e ti servono meno rispetto a quelli neri quindi in base a quello che è il meta dove giochi tu puoi decidere dust to dust e ci sono troppi mazze artefatti con la base artefatti quindi meglio giocarli e tra l'altro avendo gli spell pierce rischi di fare da su da scoperto i mirror quando lui giocherà il rebuke tu magari gli hai anche spell pierce i proteggini neri invece sono molto più importanti perché bg per esempio è un mazzo molto in ascesa e ub fate e control pure e questo è veramente un palo in culo incredibile per loro devono fare mass removal più tt in blade è veramente dura è difficile per loro standardieri tre per carta considerato in tutti i match up come spell pierce praticamente e standardieri è carta fortissima in mirror ricordatevi che ruba l'olded glitters quindi carta incredibile fuori di testa forse metterei anche la quarta ci potrebbe anche stare finito finito fateci sapere cosa ne pensate non abbiamo finito il video adesso parte fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e trovate la lista su moxfield ecco qua ve la vi cambio lo stato settings ok ce l'hai pubblica è pubblica la trovate nel nostro canale migisoplotus seguiteci anche qui abbiamo qualche qualche fanno solo 24 che pochi ragazzi adesso poi ti cambio il 9 di glitter se lo metto qualcosa di più spicy spice allora partiamo vuoi parlare un po' tu di Rakdos Combo allora si facciamo una tier list partiamo dal basso i mazzi che secondo noi in Pauper sono in un momento sui tier ovviamente ragazzi tra Pauper ci sono tante varianti e tanti altri mazzi che potrebbero essere citati noi abbiamo preso questi e abbiamo dovuto fare una cernita a un punto quindi ovvio che magari il vostro mazzo preferito mancherà allora Goblin Rakdos Combo in realtà appunto Goblin Combo è un mazzo Rakdos che nonostante giochi Goblin in realtà il piano aggro non esiste cioè non ci tirate mai di aggro l'obiettivo è fare la combo con Skiris Prospector è il Goblin Sacrifichi un Goblin con Manorosso Goblin Putrino Tappi 2 2-2 è un Goblin con Persistere quindi quando muore se non c'è il segnale di 1-1-1 rientra con il 1-1-1 e First Day of Class infatti il nome di questo mazzo è anche Mog Wars perché questa è una carta di Strix 7 che era la scuola di magia e quindi Mog i Goblin sarebbe il nome dei Goblin in Magic Wars di Hogwarts Persistere di Og Wars dice per tutto il tuo turno ogni qualvolta casterai una cioè scusa una creatura non cast una creatura ti entra nel campo di battaglia entrerà con un segnale il segnalino più 1-1-1 è rapida quindi vuol dire che il vostro Goblin Putrido che dovrà rientrare col segnalino meno 1-1-1 viene pulito viene pulificato perché la regola di Magic è che i segnalini più 1-1 e meno 1-1 si annullano a vicenda facendo la sottrazione attenzione che magari poi si è capitata questa domanda solo i segnalini più 1-1-1 e meno 1-1 perché a Magic esistono dei segnalini vecchi come segnalino più 2-1 segnalino più 0-1 esistono nelle carte vecchissime quelli non contano solo i più 1-1 e meno 1-1 quindi rientrando pulificato lo risacrificate sul Proc Spector e fate un'altra mano rosso lui rientra di nuovo perché entra pulificato perché first of the class funziona tutto il turno e fate mano infinito mano infinito cosa fate? Goblin Dark Dweller che è quello dopo l'uno per sacrificate un Goblin una creatura in realtà e potete esiliare la prima carta del Grimorio e giocarla a questo turno avendo fatto mano infinito a questo punto potete sacrificare infinite volte il Goblin Putrido ma non sul il Proc Spector ma sul Dark Dweller vi esiliate in tutto il mazzo potete giocare in tutto il mazzo e avete il modo per chiudere perché c'è Night Shift Munition fate tutti i Goblin del mazzo rapidi ci sono mille modi ecco si rapidi con il counter più 1-1 quindi alla fine attacchi con tutto e vinci tanto cumulativo perché puoi anche ricastare 4 first day of class entrano con 4 segnalini allora il deck ho parlato anche con un altro giocatore fortissimo piemontese e mi ha detto che a lui piace secondo me il deck ha potenziali ma dovete impararlo a giocare perfettamente perché potete interagire con l'opponent in diversi modi durante la combo quindi è molto complesso perché sacco removal faccio questo a nerd quindi è veramente complesso in alcuni matchup mazzo che se la puoi giocare però lo mettiamo nei tier 2 quindi tier 1 tier 1 e mezzo tier 2 lo mettiamo nei tier 2 ovviamente si poi patisco anche molto il gravate le reliquie sono ovunque esatto allora vado con grixie affinity grixie affinity una versione più lenta di affinity quindi come vedete con i cast down di the dispute recognize par game metallic rebuke ha un po' il problema ovviamente dei colori nel senso che ovviamente è tricolor super greedy super greedy di rosso e di main abbiamo solo due carte una è una carta da late ma l'altra invece è un crackland shaman che vogliamo fare non chissà quanto inirli ma comunque di terzo quarto turno vogliamo farlo per pulire un po' il board se serve il deck secondo me non è male però sta un po' sotto agli altri soprattutto alle altre versioni di affinity tendenzialmente la terza quindi la mettiamo nei tier 2 lo potete anche giocare però non è un deck forse in una battaglia di midrange è più forte degli altri affinity ecco se il meta fosse totalmente midrange sarebbe da giocare questo invece degli altri quello si perché i blue fountain peschi tanto quindi veramente un deck che si gioca tanto questo è un match che grinda davvero tantissimo l'unica sfiga che è molti mazzi midrange sono mazzi col bianco e quindi dust to dust si devi mettere i counter che però non hai si vedete a ermine negate scusami negate rebuke si comunque tendenzialmente è questo se nel vostro meta siete frustrati giocando affinity perché c'è troppo hate ecco questa è una buona alternativa nel senso che è un mazzo che comunque fa molto più value vi spaccano la terra ve l'esiliano potete saccarla con otto carte invece tipo nelle versioni normali no cioè ve la spaccano e basta la perdete poi abbiamo vai tu se vuoi yes questo che è troncombo ah troncombo ok perché si chiama jantron infatti diciamo che è il nome si 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 troncombo solo che l'hanno cambiato un pochino non ho capito il nome allora praticamente questo qua è altartron per chi non lo conoscesse praticamente il nostro obiettivo è fare una combo mettendo 2000 retriever più lash node altart adesso non so spiegare la combo perché è un po' intricata quindi l'obiettivo è fare così per poter fare infinito retriever vabbè ve la spiego io che l'ho giocato ok vai vai allora con ascia d'altar e due min retriever voi cosa fate saccate il primo saccate il primo prendete due mana giocate il secondo col secondo lo saccate riprendete il primo prende e fate infinite spell se avete wither the storm avete vinto tra virgolette sì fate infinite infatti vite infinite se avete golem thunder in campo fate infiniti 3 3 quindi tra l'altro fate infiniti 3 3 a instant perché voi con con l'abilità della fonderia potete mettere i 3 3 anche in end quindi passate la fonderia 100.000 segnalini in end rimuovete mettete i 3 i golem infiniti vi fanno fare mano infinito sì 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 ma avete avete tutto però tendenzialmente se fate la combo e fate o vite infinite o 3 3 infiniti avete vinto perché è difficile a gestire secondo me il deck è buono lo mettiamo comunque nei tier 2 anche qui dovete impararlo a giocare bene e in base al meta può essere una buona scelta o non una buona scelta io l'ho testato un po' contro i mazzi aggressivi eccetera soffri i counter soffri i tempo soffri i mazzi aggressivi a volte perché se questa lista per esempio gioca solo 2 wither the storm e non 3 e comunque il deck i primi turni non fa niente cioè fai terra mappa spacco mappa e poi devi fare trono e poi inizia a giocare seriamente eh sì se non vedi weather linko i matchup tanto weather caricata e non weather e basta da poco sì weather da poco non basta assolutamente hai candy trail che ti danno le vite però è tutto non lo so forse anche questo in un meta midrange senza il blu in un meta midrange senza il blu prende valore perché ti lasciano tempo di fare sì ti lasciano tempo di fare tutto rv sintetizer vg in un meta con quei mazzi là dominanti probabilmente questo mazzo se la puoi giocare perché loro ti lasciano i primi 3-4 turni per apparecchiare il trono e fare poi quel cazzo che vuoi non hanno i counter quindi le carte entrano e se scombi scombi quindi in quei meta là mi sento di dire un buon deck ovviamente con monorosso glitters glitters credo sia un incubo perché non hai praticamente interazioni di main quindi no poi glitter non devi neanche fare una spell density di chissà quanto ti fa glitter ti giro per 10 poi non faccio più spell tu farai non fai niente perché c'è lo scombi però è difficile scombare in frettissima poi prossimo mazzo è il primeretto e tron che è appunto tron controllo praticamente il trono quello come vecchia scuola che giochi un pentacolor in realtà ti concentri su dei colori che non è proprio penta però volendo puoi essere penta in media giochi come core il verde e il blu e gli altri sono più di sopporto in base alle spell è un mazzo teachings cioè tu ti basi su fare tantissimo mana di tron non devi per forza fare tron veloce il tuo obiettivo non è farlo velocissimo anche se ovviamente prima c'è meglio è e con tutto quel mana come lo sfrutti per fare teachings teachings ti fa super mega tutore perché costo 4 ti prende o instant o carte con flash che è anche una cosa importante quindi puoi anche prendere creature qua non ci sono ma ci sono creature magari con flash puoi pigliarti è anche fortissima perché ha flashback quindi la puoi fare due volte e ti pigli la risposta a quello che fa l'avversario o le nebbie molto spesso perché questo comunque alla fine è un mazzo tra virgolette anche molto simile a turbo fog cioè sfogo 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 perché tanto ogni turno che guadagni è un pezzo di tron in più che fai quindi potenzialmente due o tre mana in più e poi come chiudi allora qua è una lista online quindi chiude con però anche il real si può fare così con rolling thunder questa è una chiusura più online per via del timer che c'è su mtgo perché è una sorcery questo non puoi prenderlo con teachings in real puoi chiudere con una combo con dov'è il counter l'unwind eccolo unwind ok eccolo qua unwind più due muri più weather the storm praticamente tu ti fai ti counteri la copia di weather the storm ti stappi le terre è una combo Luca complicata questa davvero non ve la spiego comunque fai male infinito in questo modo con questa carta qui che è comunque anche utile per fare un counter fermare infinito evite infinite poi con esatto come delle storm cioè fai pasticci poi a un certo punto devi fare anche spell infinite o chiudi con il classico muro mnemonic wall più flicker e poi uccidi l'avversario magari con ding rova horror che ti bounce a tutti i permanenti qua non lo gioca per esempio ma ci puoi ecco lì sotto ci sono vari modi una volta che sei in controllo devi trovare un modo per chiudere questo mazzo è una mille dalle combo al ding rova a ti ammazzo di muldrifter quello è il meno allora moment peace carta fortissima due turni di nebbia è veramente OP veramente è una bomba il deck è un deck che non è che sia stragiocato non è neanche stratestato avendo accesso a tanti colori può migliorare di anno in anno perché puoi sempre prendere qualche carta nuova da mettere nel deck però aggettivamente sembra indietro rispetto agli altri deck una volta era un tier 1 e il problema è che il formato si è evoluto appunto il formato si è evoluto si è evoluto tanto i mazzi aggressivi in realtà li patisce abbastanza perché o vedi in maniera specifica pulso fumurasa le nebbie eccetera se no allora poi entriamo nei tier 1 e mezzo con jesky e ephemerate quindi un deck allora adesso qua ok si si è giusto la sinergia qual è? cleansing wildfire sulle terre indistruttibili queste qua quindi ci permette di rampare e pescare che è veramente una bella sinergia esatto praticamente fai rampant growth che però si cicla quindi non c'è un'altra carta invece che fa la stessa cosa e no e non penso che la stampino e quindi diciamo che questa è la parte del deck che lo caratterizza un po' di più poi vediamo il resto c'ha iaguri kenku gli arcomancer il murmuring alla fine vuoi fare value controllare il board e con ephemerate blinkare le creature che riprendono arcomancer augura eccetera quindi un deck di questo tipo qua 4 lorien ovviamente gioca l'union of the third path potremmo chiamarla la nebbia bianca si la nebbia bianca perché fai tantissime vite si peschi una carta e poi guadagni vite pari alle carte che è in mano quindi una carta che ci può stare gioca gli scred le terre artefatte le terre artefatte le terre neve quindi gioca tutte e due e niente questo mazzo qua poi abbiamo grul ponza ponza questo praticamente è un mazzo che vuole spaccare le terre dell'altro e soprattutto vuole fare le cose molto off curva l'obiettivo è fare terra utopia o wild groved e poi non fare un mana d'or qualsiasi ma cioè prima c'è terra arboreo e poi turno due fare terra utopia o wild groved perché arboreo e non altri mana d'or perché arboreo a differenza di altri non dà mana stappano a terra qui se avete incantato la terra con utopia o wild groved vi dà 4 mana 2 per la prima tappata e 2 per la seconda tappata e così vuol dire che potenzialmente di secondo di secondo potete avere già una roba come 4 mana che è tantissimo mazzo che in generale ci piace sia meccanismo siamo dei fan di questo deck ma in questo momento storico essendoci mazzi come glitters come monored eccetera in realtà fa un po' fatica perché soprattutto main deck contro glitters hai un'interazione che sono gli scred e purtroppo non bastano perché se lui ti fa glitters su un volante e tu non hai lo scred attivo in quel turno è la partita abbastanza committata perché tu si puoi spaccare una o due terre puoi fare delle creature grosse ma avere un ginger brute o un ornitottero con old glitters tendenzialmente sarà più grosso di qualsiasi tuo bloccante se magari indietro quindi fare iniziativa non puoi farlo quindi non puoi neanche fare quella spell fai cascata perché hai giochi volendo anche otto cascanti però non è che sempre caschi figo potresti cascare anche un'utopia di merda non è possibile la sfiga altra è che il formato è pieno di terre indistruttibili quindi spaccarle tutte praticamente è quasi utopistico l'idea è quella di spaccarne uno ogni tanto come raccontavo prima a me è capitato anche di avere io ne gioco vabbè ne gioco sei di indistruttibili sette e quindi è un po' più semplice vabbè le giocano tutti sette in realtà ho detto una cazzata per esempio Grixis forse ne gioca ancora di più tra l'altro quindi per esempio anche contro Grixis Affinity che sarebbe forte spaccare le terre perché è tre colore però il gioco ha tante terre indistruttibili quindi bicolore quindi è difficile poi ci sono i tamburi allora diciamo che questa questa strategia può funzionare probabilmente di più in un meta di Ubi di forse Ubi Control mazzi un po' più lenti no? che ti danno tempo di fare mana e poi di cascare più volte il problema qual è? che questo mazzo a volte finisce proprio la benzina infatti c'è una lista ne parlavamo prima della live Temur che gioca Muldrifter Lore Rebuild perché sono carte che se tu giri dei cascanti ti fanno un meglio incredibile e quindi quindi cazzo Muldrift eh cazzo e anche Loreen ti fa pescare tre quindi cazzo fai un 6-3 rapido che pesca tre cioè è fortissimo e quindi e poi gioca la spell quella blu verde che bypassa l'indistruttibile che mette in cima il permanente eh che fa la differenza quindi se volete giocare Ponza valutate anche il Popper Gheddon valutate la lista Temur perché può essere migliore potrebbe anche essere migliore Gescai Affinity ah c'è poco da dire Isma Galvanic Blast Experimental Synthetizer un po' più midrange con i Glint quindi un'altra sinergia con i Trabben un po' più midrange qua ci stanno le Ranelle Mirenforcer perché girando di Synthetizer vuoi le spell a costo zero però non hai zero protezioni per esempio io qua il il proteggino bianco forse ce lo vedrei anche se è brutto girato di Synthetizer è quella perché alla fine questo è un mazzo Synthetizer però purtroppo vincere con queste carte sì allora in realtà il piano è un po' più solido perché avendo i Glintock è una buona carta 2-2 volante cioè gli ruba i danni non ha problemi qua ci sono quattro enforcer le Frogmite oggettivamente cioè con tutti questi tra bene è un casino perché c'è te ne mettono due davanti tre davanti ti fanno triple blocco doppio blocco e fanno niente è un mappazzone è un mappazzone sì vabbè comunque questo l'abbiamo messo tier 1.5 però sta sotto probabilmente alla versione Ubic sì a me non piace a me sinceramente non piace poi abbiamo Boros Synthetizer Vaisma questo è tuo Boros Synthetizer questo è un mazzo molto molto figo se ne sono i mazzi che piacciono a me anche se lo sto giocando Orzo l'obiettivo è fare value tramite Glintock e Skyfisher quindi trasformare le loro ETB che sarebbero svantaggiose perché detto pro le povere ti fanno bounceare permanenti tuoi in mano in vantaggiose e come lo facciamo con delle carte che hanno delle ETB che se ripetute fanno vantaggio quindi l'embas l'esperimental Synthetizer che addirittura ha anche una leave the battlefield che è buona il battle fist perché se lo facciamo uscire e rientrare ci fa un altro 2-2 per terra ribelle e tutte carte così il mazzo poi cerca di ucciderti con i botti finali perché fa una race di volanti che non sembra ma è molto 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 costante perché ti faccio un po' di danni iniziali con Glinton che scarpisce ma andanti anche solo a 12 o 14 però se poi ho in mano 3 galvani che due volte sono abbastanza per ucciderti in più il mazzo come ha detto Isma avendo i lembas e gli 8 traben e riuscendo a riprenderli in mano in realtà poi in late succede quello che succede nella nostra lista di affinity cioè continua a pescare come un dannato peschi tu a turno perché hai lì 2-3-4 clue dopo che hai finito le risorse in mano e quindi fai pesco tappo 2 spacco pesco pesco tappo 2 spacco pesco faccio un altro traben o faccio un altro glint che riprende traben e cazzo o faccio esperimenti a sintetizer e quindi cicli il mazzo all'infinito boros sintetizer vi dico ottima scelta se forse per i power geddon tra l'altro con gli 8 inspector anche mono red non è più non è un pericolo così grande perché comunque i inspector bloccano benissimo ragazzi ragazzi sono anch'io sto giocando nella versione orzo con 6 o 7 ma poi torno a 8 non lo so come sto giocando un casino di traben inspector troppo forte in questa lista ci sono i seeker the way ma potete giocare tranquillamente downbringer cleric quindi vedete voi cosa vi piace di più in base se più o meno aggressivi si potete scegliere il downbringer è veramente forte comunque esilia una carta da un cimitero guadagna le vite spacca gli incantesimi è una bella carta e potete riprenderlo in mano ovviamente e allora prossimo mazzo familiars vuoi andare tu vado vado è un mazzo combo questo è molto complicato non ve lo consiglio se non lo prendete in mano adesso se invece siete giocatori forti ve lo consiglio perché a prescindere è un mazzo molto molto spicy l'obiettivo praticamente è barare con le bounce land e fare tantissimo mana e scontando le spell con i famigli quindi appunto il sun questo qua il sun scape vi scontra il spell di uno quindi fate poi un vantaggio mana incredibile grazie alle spell che costano di meno e poi l'obiettivo è scombare con carte come ghostly freaker più archiomante più appunto le bounce land o altre carte per chiudere ci sono modi come punti vita infiniti grazie a god ferro faithful che tra l'altro è una bella carta in questo mazzo perché non sembrano 0-4 di merda ma vi fa fare talmente tante vite che vi dà turni in più cioè vi fa fare come se fosse il moment of peace del mazzo perché vi fa fare talmente tante vite che potete fregarvene di alcune combat e quindi avere molti turni in più per provare ad assemblare la vostra combo e si può uccidere appunto di mani infiniti e robe varie adesso la chiusura che si sta più utilizzando è qua magari non ce l'ha perché non lo vedo mai in deck no infatti ma si uccide spesso col murmuring mystic anche se ci mette magari un turno in più perché potete fare infiniti uccelli anche perché fate infinite spell che suona ma è convincente è convincente quella è anche la maniera che qualcuno gioca anche main deck qualche volta ci può stare e niente il mazzo è incredibilmente incredibilmente forte snap questo mazzo poi è incredibile perché snap rimbalza un pezzo e stappa due terre e di nuovo col trick che vi dicevo di prima potete tappare due bounce land fare flottare il mana non è in più chi se ne frega lo snap lo pagate solo uno perché ve lo scontate col famiglio poi stappate due bounce land cioè fate un fottino di mana un fottino di mana anche senza avere tutta la combo giri strani già solo una giocata così è fortissima basso molto forte snap ricordiamo che potete farlo anche per proteggere le vostre creature e bouncearle e potete farlo tranquillamente anche su CDA tal come essere emul drifter e niente allora un piccola cosa e poi passiamo al prossimo deck prohibit e remove soul perché vengono scontati invece counterspell non viene scontato quindi questa è la risposta alla domanda se ve la state ponendo non c'è counterspell perché non viene scontato allora prossimo deck non ho capito c'è anche lista che giocano counterspell ovviamente scegliete poi ve la apriamo sotto eccolo qua 1.5 nel 50% di deck vedete che sono un po' splittati dipende quanto riuscite anche meeting per esempio meeting lo vediamo spesso io adesso prendo sempre c'è una lista che è da goldfish ma in realtà se guardate sotto è un'altra carta loose focus molto importante loose focus mi piace tanto perché anche il late potete replicarla per counterare quello che volete anche ripeto il late dove magari proibite è meno incisivo può essere meno incisivo può essere meno forte vabbè proibite è forte anche il late sì è sempre forte non countera poche cose allora poi dimir feiris l'abbiamo già parlato quindi non ci soffermiamo nuovamente mazzo forte il monarca che è una bella sinergia in questo deck un tempo veramente forte se vi piace giocare tempo volete giocare la spestatter e il debito con i ninja bellissimo è il doppio migliore in questo momento assolutamente entriamo tra i no cogates era ancora sì era uno e mezzo ancora due dai sì ma è tutto relativo ragazzi comunque li stiamo mettendo in ordine più o meno di classifica quindi esatto però poi potete spostarle un po' anche perché pauper varia molto abbiamo visto in base un po' al meta perché essendo che le carte sono tra virgolette deboli passatemi il termine non sono come nei formati legacy in modo che sono polivalenti cioè sono forti in una situazione perché la carta fa una cosa non fanno dieci cose e quindi se la situazione che beccherete saranno dieci monorossi allora un mazzo diventa magari come cowgates che magari ha molti lifelink di main può essere magari decente anche se le terre tappate insomma è un x la situazione se però invece il meta è completamente non lo so mazzi midrange è la situazione un'altra e quindi purtroppo è quello che sposta molto che il pauper dipende molto cosa beccate di matchup e come impostate la side perché le carte fanno una roba e basta sì il the one ring di pauper è il trabe allora cowgates un mazzo veramente forte però anche questo delicato quindi dovete imparare a giocarlo bene se volete farlo perché fate una marea di terre tappate e questo non è facile a gestire soprattutto in questo meta però avete possibilità di recuperare la board sacra e cat che è come se fossero 2 1 1 lifelink da un bringer sinergia che che magari non tutti vedono subito brainstorm con squadron ok fate squadron ok fate fate uno squadron ok fate brainstorm mettete in cima di squadron ok e ne fate un altro questo su due turni vi permette di rimescolare il deck e di riprendere gli squadron ok che avete messo in cima e quindi di non perdere pescate questo una branza che ha visto tre carte in più e e non avete restituito nulla perché c'è pazzesco questa è una sinergia fuori di testa eh ma infatti questo mazzo aspettava giusto la stampa nella roba come i gate per diventare forte perché era un mazzo che aveva il problema che è sempre rimasto borderline nel meta come tier 5 insomma una roba bassissima però gli mancava un modo per chiudere il game e ora l'ho trovato poi abbiamo il guardian of the guild pact per avere una creatura solida e però vinciamo come diceva Isma del 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 no questo qua il basilisk gate due mana lo tappiamo più x più x è una creatura dove x è il numero di gate che controlliamo e si attiva sorcery ragazzi in mid late è un incubo perché qualsiasi creatura diventa incredibilmente grossa ogni cosa è una minaccia una minaccia poi i sacred cut che diventa 8-8 è ingestibile ovviamente sì 8-8 life no è fuori di te 4 prismatic strand che è un'altra carta OP per power veramente una carta con un po' level altissimo e niente il resto del deck è abbastanza lineare con le carte più forti nei colori deck veramente forte le sfighe sono le terretappate e il fatto che one abbia un inevitabilità infinita come alcuni mazzi cioè non hai iniziativa non hai ok basilisk è una buona inevitabilità però il problema è che se l'altro è un mazzo che c'ha io gioco gioco ventordici removal il mio obiettivo ti lascio il bordo completamente vuoto tu non puoi uccidermi per fortuna che abbiamo i counter in questo deck altrimenti anche contro per esempio le liste come quella di Isma che è un po' spicy perché è bianco e nera quindi riprende in mano le Titing Blade che è una cosa che non capita così spesso perché BG le gioca ma non le riprende Ubino le gioca non le riprende e chi gioca le creature bianche che riprendono in mano non gioca il nero per le Titing invece se beccate per esempio mazzi che fanno questo vantaggio infinito avete counter spell e dispel per provare a fermarlo esatto sono molto tirare i counter spell ben in questo deck credo che sia fondamentale perché nei quattro devi sfruttarli al massimo se si sbaglia devo essere chirurgico sui target chirurgico veramente chirurgico allora ultimo deck che abbiamo messo come tier 1 e mezzo ma potremmo anche metterlo come tier 1 infatti guarda eravamo un po' perché io sono più per tier 1 Marco è più tier 1 e mezzo qua ci scontriamo no vabbè il deck è barn in tutte le sue versioni il deck è 1 ma ci sono 8 6 10 carte differenti per ogni versione 4 dipende c'è chi gioca il goblin con gli sticker c'è chi non li gioca c'è chi non gioca c'è il lightning c'è chi gioca le galvaniche c'è chi gioca le goblin grenade e sono tutte leggermente diverse il deck è forte non diciamo di no il deck ha una sua strategia e la porta a termine il problema è che a volte può peccare di consistenza perché rischi che in un meta dove ci sono comunque tanti traben rischi che i tuoi 2-2 non siano più così belli perché anche l'1-2 che prende minacciare bloccato da due traben purtroppo muore e non fa niente ovviamente vai tipo avete anche voi le vostre interazioni però qua stiamo dicendo in generale e post side comunque ti sideano tutti qualcosa quasi tutti qualcosa è qualcosa di consistente che dici? assolutamente assolutamente il problema principale di questo mazzo è che ogni tanto muore da solo perché non ha controllo su quello che fa è un bar non mano rosso agro e l'altro grosso problema è che la side tutti ormai giovano con un 6x per ammazzarti soprattutto se non hanno un match up eccellente contro i te ma sono dei 6x di qualità che ti stendono e quindi quello è il grosso problema c'è questo mazzo che se tu lo porti se fai in curva cool dota into bushwalker into bot ti vinci sempre ok figo o l'altro magari fa anche delle terre tappate quindi gioca off curva quindi figurati però se l'altro invece parte con il life gain è un paio di carte a the side poi fa il suo piano e ti rallenta di 1-2 turni vince lui quindi questo è un grosso problema tutti i mazzi che hanno i traben secondo me sono comunque ostici tutti i mazzi che hanno cioè tutti i mazzi i due mazzi che hanno come co-gates che è vero che è un mazzo lento però è vero che se ti fa sacra e cut di primo di secondo cazzo quello ti toglierà tanti danni sì ti togli due pezzi volendo le vite sì più che altro può anche solo cian bloccare una volta però cian blocca previene due danni gli dà una vita a lui poi tornerà e rischia che torni se c'ha cioè non è semplice e l'altro che è peggio è invece ubi familiar che hai 4-0-4 cioè terra-0-4 ciao è veramente difficile da gestire è vero che se lui se tu attacchi un 2-2 e lui cian blocca tu puoi fare volte e lo devi fare se puoi toglierlo devi toglierlo però può essere ossico non lo so allora come diceva Isma c'è un po' troppo odio probabilmente quindi vediamo secondo me se vuoi vincere un torneo con mono rosso lo puoi vincere ovviamente è un po' per Gheddon eccetera ma devi giocare bene e quello non è così complesso ma devi pescare molto bene durante la giornata come diceva Isma le otto traben cazzo ro no i traben cioè non lo so noi l'abbiamo portato noi abbiamo anche sbagliato la sedata come abbiamo detto prima giocare la side in un certo modo però la sensazione è di un deck forte ma è di un deck che in alcuni match up proprio fa una fatica enorme e in alcune situazioni peschi una terra in più e sei proprio nella merda ma proprio nella merda allora tier 1 partiamo con Golgari Control Golgari Control questo è il midrj anzi più che midrj non è proprio control come dice il titolo possiamo chiamarlo più che midrj è un tap out control così magari si passa al concetto praticamente i control non è che sono solo col bluco i counter si può anche controllare con remove valvrat e robe così giù esatto anzi che controllare lo stack controlli la board l'obiettivo di questo mazzo è quello controllo il board in maniera molto molto efficiente pesco 2 grazie a tutti i miei effetti di sacrifica un pezzo e pesco 2 il pezzo che sacrifichiamo sarà o un artefatto che si cicla tipo le embass la come si chiama l'icor wellspring quello che ci pare o le piantine date dal carne garden che quindi fanno un doppio effetto fanno cian blocco e le sacrifico quindi perfetto il resto è poi tribale removal the file c'è nel sedict la titan blade che è la miglior carta del formato cast down snap out spinning darkness quindi anche removal a zero creep trats che è una vratta molto molto efficiente oltre che volendo anche una chiusura perché può anche guadagnare anche i player e è buono quindi là non ci sarà mai un board appena non ci sarà un board siamo in completo controllo buttiamo iniziativa monarca e vinciamo perché abbiamo questo emblema che fa value da solo e vince le partite allora il team trio mazzo più portato credo non ho i dati sotto mano perché non non li hanno ancora postati non so se li posteranno però bg sicuramente era stragiocato creep trats ricordatevi la sinergia metto in pila l'abilità ma poi posso saccarlo con fanatical offering quindi esatto faccio sempre vantaggio un consiglio ovviamente 4d3 disput in tutte le versioni dove cazzo sono eccoli qua perché hanno messo a disegno 4d3 disput in realtà ragionate sul giocare più reckoner e meno fanatical perché vi servono le vite ho parlato anche con dei giocatori di bg e loro sono andati in queste direzioni o sono d'accordo su non andare su queste direzioni purtroppo la map token ovviamente è forte la sacchiamo nuovamente su un altro pezzo tutto quello che volete però a volte morite proprio di tempo cioè nel senso che fate tante cose ma morite perché non riuscite poi a interagire con l'avversario perché non avete più mana no? c'è pescate pescate di vite e l'altro vi uccide e reckoner bargain vi dà le vite e le vite a volte possono essere più buonanti di una map token per il resto deck forte io spinning in generale in questo meta la giocherei tutta la vita almeno una se non due anche la master removal mi piace di main purtroppo ci vuole perché ripeto come diceva Isma facciamo uno per uno per esempio la Titan Blade in un meta dove magari ci sono tanti inspector non toglie quello che vogliamo quindi abbiamo bisogno di magari pulire il board con già una master removal di main quindi draw in sorrow maz fortissimo probabilmente in questo momento più forte il turn dell'avaging Aizen giocava a 4 turn ok quindi questo ve lo dico è da non sottovalutare il troll probabilmente a noi piace 4x e non 3x perché è anche una possibile chiusura quindi quindi Aizen succedeva solo di pesco pesco troll sì però il problema è che il turn entrando a 4x e non a 5x in tante situazioni è meglio non era per capire ti uccido di noia sì fai conto che che per esempio contro di me ha tenuto 3 turn per dire post side perché il suo obiettivo è faccio che l'avversario abbia o solo l'ornitottero o niente faccio turn lui non mi toglie più la monarchia ho vinto perché tanto io poi pesco due a turno ho il turn in campo faccio ratti se devo ripulire di nuovo il board ho le vrate e oggettivamente mi è sembrata una buona strategia chi sta seconda posizione per dimir control che sarebbe dimir terror dimir terror allora ho testato questo deck mi piace molto è un deck che come bg fa veramente 1200 cose come tanti deck in pauper quindi brainstorm dal not toscur cioè veramente pesco 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 scarto pesco macino eccetera e poi ci fa le gurma gangler o i tolarian terror allora se volete un consiglio forse giocherai tre gurma gangler e un mistico di main che qua non vedo ma ci può stare altre liste ce l'avevano e questo qua il mystic il murmuring mystic non sono sicuro il tor di main non lo giocherei il murmuring invece al posto di un 5-5 ci può stare perché comunque gurma gangler riuscite a giocarli non vi preoccupate che riuscite a giocarli perché mazzo macina veramente tantissimo però magari a volte ti serve fare più board che fare una creatura grossa visto che ne hai già altre 7 ci può stare a fare murmuring che lo paghi di più però ti fa un board pazzesco il mazzo è forte fallage una carta fortissima per il resto avete tutto io vi dico che ho testato una lista il crawl dovete giocarlo secondo me assolutamente avete poche creature il problema di questo mazzo è che finiti i threat non c'è modo di chiudere è finita ed è il motivo per cui giocherei anche il murmuring che contro le tt in blade di bg o degli altri deck che lo giocano è molto più forte il murmuring perché potete fare i token e quindi poi non saccare sempre 5-5 dentro il no no non giocate il murmuring non giocatelo no no giocatelo fate il culo a is e c'è anche il fallage ovviamente da saccare sotto coso allora una carta spicy è foil questa force will del pauper letteralmente forse will per pauper che vi permette di non pagare mana per neutralizzare una magia ma dovete scartare una carta blu e un'isola se potete farla avete una forza will a zero quindi una carta che counter senza pagare punto vita eccetera l'ho testata a 2 con 3 di panali nel deck non mi è dispiaciuto secondo me settato può essere una buona soluzione perché ci sono delle situazioni delle situazioni dove ubi ha più spell da fare del mana che ha quindi faccio tappo 1 macino 2 pesco 1 tappo 1 faccio brainstorm nell'ordine contrario ovviamente poi faccio 2 tolarian terror o gourmand e tolarian ma vado tapped out e voi direte c'è snoof out che è importante sì ma snoof out vi fa pagare 4 vite per distruggere una creatura non nera avere un counter è una cosa un po' diversa quindi pensateci ovviamente è una carta stra spicy e non sono sicuro che sia la scelta giusta se volete provatela ed ecco comunque fortissimo di mirror control molto molto forte prima posizione per azor rius affinity e non scopriamo scopriamo l'acqua calda nel senso che si parla già da tanto del bundle di all that glitters che tra l'altro anche questa è una versione in fallout e niente questa è la lista classica quindi potete notare anche le differenze rispetto alla mia ci sono i 3 one of mind e i 4 ginger brutto brutti non piacciono però queste 7 carte a me non piacciono in questo in questo momento però potete fare quello che volete e niente non ne parliamo oltre perché ne abbiamo già parlato prima facendo la deck tech della lista che abbiamo giocato quindi il deck è veramente forte da giocare si non è né troppo complesso né troppo semplice è un deck medio però dovete essere bravi a giocare al massimo i vostri all dead glitters se perdete troppi all dead glitters avete perso quindi dovete veramente giocarli bene con questa lista classica e non è semplice allora siamo giunti alla conclusione di questo video siamo andati ovviamente lunghissimi però vi abbiamo fatto veramente un recap in totale del power yes assolutamente vi ringraziamo come sempre ringraziamo Isma e iscrivetevi al canale lasciate un like commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi ciao